ok allora oggi vi presento il nuovo gioco che mi son preso è un gioco molto raro diciamo c'è non è mai stato uscito da una certa parte del mondo quindi voglio subito farvelo vedere perché penso anche molti dei miei amici lo aspettino un attimo che lo vado a prendere scherzata già qua ecco no sto scherzando secondo me qual è ovviamente il gioco è ok watch 4 sì ebbene è proprio questo sperando che tra poco se ci sono nintendo direct non c'è italiano perché sennò bestemmie no scherzo non si tenono le bestemmie spero di riuscire a giocare bene e ci sto cioè ho già parto su un altro tenta per non farmi vedere chi giocavo perché fosse una sorpresa per tutti ed è abbastanza non è difficile da giocare quindi se non apro una schedina già dentro la switch perché non dimenticato il tonico l'ho preso da ebay perché l'ho visto poi su amazon che costava molto di più ma era molto prima ma alla fine non è servito ho trovato solo questi due fogli completamente inutili per me perché tanto giapponese quando ovviamente non capisco quindi non vedo riprogano del tutto e ci sto speriamo speriamo che non taluncano un giorno magari forse potrò anche direttamente metterlo in metterlo direttamente da questo senza compagni un altro però vediamo ci vediamo allora e bene bene ciao